Ancora una volta applausi a scena aperta per la compagnia della marca, ancora una volta su un palco prestigioso il Ventidio Basso di Ascoli Piceno e ancora una volta con un musical dopo Salvatore Giuliano su uno dei nomi più controversi del Novecento e Daciano, la figlia di Benito Mussolini. Lo spettacolo è stato pensato e musicato da Dino Scuderi, tra l'altro presente in sala, la regia e il personaggio di Galeazzo è di Roberto Rossetti, mentre Edda è interpretata da una magnifica Floriana Monici. La storia è quella della politica italiana negli anni dell'ascesa del fascismo fino alla fine della guerra, e si svolge sì su un classico bar anni 50, ma attorno alla figura di Edda Ciano e alla sua vita, tra cuore e cuore, tra le figure importanti del padre da una parte e del marito dall'altra. Tu sei libero Particolarità dello show, la presenza sul palco di un'orchestra con Michele Carfora, cantante, e tanti sono gli interpreti ad iniziare da Brunella Platania, alias Rachele Mussolini, poi Matteo Canesin, Alessandro Casalino, Cristina Crescini, Ilaria e Silvia Gattafoni, Benedetta Morichetti, Francesco Properzi ed Enrico Verdicchio. Grazie Buonanotte